Ciao milanisti, bentornati e benvenuti, questo è il canale di Pianeta Milan, io sono Stefano Bressi e questo vi avviso subito che sarà un video molto agitato. Sono passate un po' di ore dalla partita di ieri, sono passate un po' di ore dalle ultime notizie, mi concederete il fatto che ieri non mi sia preso la briga di commentare l'amichevole tra Milan e Roma, anche perché ieri era il giorno del mio compleanno e poi perché probabilmente l'avessi fatto immediatamente, non l'avrei fatto a mente lucida, l'avrei fatto con un po' di fastidio. Però più passano le ore più io non riesco a digerire particolarmente il modo in cui il Milan ieri abbia perso contro la Roma e quindi io continuo a pensare che Milan stia facendo solo figuracce dentro e fuori dal campo, perché purtroppo le notizie che arrivano non sono assolutamente positive e non riguardano neanche direttamente noi, ma nonostante questo il Milan continua a collezionare brutte figure e quindi adesso ne parliamo insieme perché sinceramente il periodo dell'aspettare, il periodo della voglia di dare tempo e cercare di capire quali siano effettivamente le situazioni, le condizioni di questa proprietà, di questa dirigenza, sinceramente sono un po' finite e ne ho sinceramente per tutti, dal proprietario Gerry Cardinale fino all'amministratore delegato Furlani fino al frontman, perché di questo si tratta Zlatan Ibraimovic, al capo scout Moncada, all'edettore sportivo Dottavio. Ma ne parliamo adesso, ripeto, insieme. Prima però io vi chiedo e vi ricordo di lasciare il vostro mi piace a questo video, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, perché mi raccomando per noi fa tutta la differenza del mondo, ci aiuta a diventare più grandi, ci aiuta a crescere, a voi invece non costa nulla e ci mettete un secondo e trovate tantissimi contenuti su questo canale di qualsiasi tipo e genere, basta che vi fate un giro appunto sul canale e verificherete quello che vi sto dicendo. Attivate anche la campanella così da ricevere le notifiche per tutti i video che andiamo a pubblicare, commentate perché voglio sapere cosa ne pensate voi e come sempre vi leggo, vi lascio il cuoricino e poi c'è il tastino grazie per chiunque volesse sostenere il canale, ci farebbe molto piacere e chiunque lo farà verrà ringraziato pubblicamente in un video e avrà risposta al commento. Allora, dicevo, partiamo dalla partita di ieri, anzi no, la partita di ieri la lasciamo alla fine perché la partita di ieri è diciamo il meno, nonostante siano arrivati altri cinque gol presi dal Milan, ma partiamo invece dalle notizie di attualità che ci riguardano in un certo senso senza riguardarci e mi riferisco al rinnovo di Lautaro Martinez. La copertina di questo video è chiara, schiaffi e schiaffoni, per me gli schiaffi sono i cinque che abbiamo preso dalla Roma in Australia nella terra dei canguri, mentre gli schiaffoni sono quelli che continuano ad arrivarci fuori dal campo e che continuano ad arrivare precisamente alla dirigenza e alla proprietà perché l'Inter rinnoverà Lautaro Martinez. Lautaro Martinez si accontenta, tra virgolette, di nove milioni all'anno, quindi non cinque, sei, sette, otto milioni, nove milioni all'anno che comunque sono una cifra importante. Lautaro Martinez probabilmente ne voleva un po' di più, ne voleva dieci, dodici, non verrà accontentato anche se ne dovesse prendere dieci, insomma lui ne voleva dodici. Il motivo qual è? Forse non lo voleva nessuno, forse è talmente legato all'Inter da accettare anche questa offerta, a noi questa cosa non interessa. Cos'è che ci interessa di tutta questa vicenda? È che arriva uno schiaffone enorme al Milan e a tutti quelli, compreso me, mi ci devo mettere anche io dentro, che pensavamo che con il passaggio dell'Inter a OAC3 le cose sarebbero decisamente cambiate in maniera radicale, perché qualcosa cambierà sicuramente, ma non in maniera radicale. L'Inter continua a lavorare in un certo modo, e chi prima diceva che l'Inter fa così perché ha una proprietà che la gestisce come se fosse una bolla che continua a essere gonfiata e prima o poi esploderà, si è preso un bello schiaffone in faccia. Si è preso un bello schiaffone in faccia, me compreso. Ce lo stiamo prendendo tutti, ma soprattutto lo schiaffone più grande se lo sono presi i dirigenti e la proprietà del Milan. E a questo punto bisogna parlare in maniera molto chiara e diretta, perché la favoletta del fondo che gestisce una squadra in maniera sana con le aziende, perché finché c'era la proprietà Zhang all'Inter si poteva dire che la situazione è quella che è, devono fare in questo modo perché altrimenti vanno a fondo. Adesso l'Inter di OAC3 è un fondo, non va a fondo, è un fondo, esattamente come lo era Elliot, esattamente come è Redbird per il Milan. e ti sta dimostrando che si può, volendo, volendo, gestire una società, una squadra di calcio, da squadra di calcio, nonostante l'obiettivo sia quello del risanamento dei conti, ma senza mai metterli davanti a tutto il resto. Lautaro Martinez era una priorità, era necessitare innovare, e così è stato. Certo, non si arrivate ad accontentare il giocatore a 12 milioni, ma perché 12 milioni è oggettivamente una cifra folle, tra virgolette, per qualsiasi squadra in Serie A, ma l'ingaggio è comunque da 9 milioni. 9 milioni al Milan non li prende nessuno, cioè arriva le A o a 7, forse qualcosa in più, con i bonus. E noi siamo qui, e Lautaro Martinez l'ha rinnovato in una settimana praticamente, due settimane, quanto ci ha messo? E noi siamo qui a tremare, ad avere paura, perché Teo Hernandez potrebbe andar via, perché Milano non vuole pagare i 7-8 milioni a Teo Hernandez, che è il giocatore più forte del mondo nel suo ruolo, che con tutto rispetto per Lautaro Martinez, che è un attaccante, che è fortissimo, tutto quello che volete. Ma Teo Hernandez è un top mondo, Teo Hernandez è un top mondo, e noi siamo qui a pensare se rinnova, se non rinnova, se dargli i 7-8 milioni. Ma in ginocchio dobbiamo dargli questi 7-8 milioni, e ringraziarlo che non ce ne chiede di più. E ripeto, è uno schiaffone enorme a chi ci veniva a dire che non si può fare in maniera diversa, e che l'Inter fa così perché? L'Inter fa così perché vuole vincere. L'Inter fa così perché ha delle priorità che sono diverse da quelle del bilancio. E i tifosi sono stanchi di sentire parlare di bilancio, di sentire parlare di squadra che cresce, perché è vero che il Milan cresce, ma se questa crescita non porta a nient'altro, a che pro cresciamo? Per rimanere fermi praticamente alle situazioni di 4 anni fa. Cosa siamo cresciuti a fare? Quale guadagno abbiamo ottenuto dalla crescita degli ultimi 4 anni? Di vincere uno scudetto in questo modo, ma per poi tornare più indietro, perché abbiamo fatto un exploit, ma poi non c'è stata una crescita, c'è stato un exploit e poi si è tornati a livelli bassi. A quale pro cresciamo se non siamo disposti a pagare un allenatore a una certa cifra? A quale pro cresciamo se lasciamo andare i nostri top perché non siamo disposti a pagargli il rinnovo alle cifre che meritano? È inutile che ci vengano a dire che cresciamo. È inutile che il cardinale ci dice che vuole vincere, ma come vuoi vincere senza spendere? O comunque senza spendere in maniera intelligente, perché nessuno dice che doveva pagare 12 milioni all'anno a un giocatore, Matteo Hernandez lo devi rinnovare, lo devi rinnovare senza fare storie neanche. È inutile che ci vengano a dire che vuoi vincere, non vuoi vincere, vuoi provare a vincere, che è diverso, è diverso. O Ibrahimovic, ma Ibrahimovic cosa sta facendo ragazzi? Perché è un frontman, non ha un ruolo, non ha un dirigente, non è nulla, è un frontman. La pazienza sta finendo, e ti fossi, basta vedere come tratta Ibrahimovic adesso. Non sono stupidi, se ne sono accorti della situazione. Moncada, che in teoria dovrebbe essere un capo scout, e fa la fine del direttore sportivo, d'Ottavio che è un direttore sportivo messo lì, non ha parlato una volta, non ha detto una parola, non si sa se ha un ruolo reale, operativo nel Milan. Ragazzi, chiarezza, serve chiarezza, serve un segnale. Il Milan non può più fallire, questa cosa deve essere chiara. Veniamo da due stagioni di umiliazioni a livelli estremi, e adesso non c'è più pazienza. La pazienza, e le scuse, sono finite. La pazienza perché è finita e basta. Le scuse perché ti stanno dimostrando un fondo statunitense che ha preso un Inter in una situazione drammatica, che volendo, anche i fondi, possono fare un certo tipo di operazioni. E poi arriviamo al campo, dove ieri il Milan ha preso cinque gol dalla Roma. era un amichevole, ce ne fregava il giusto, se non nulla. E si poteva anche perdere, nessuno importava di perdere, vincere, sinceramente, non è quello l'importante. Ma io vi vorrei ricordare, qualche anno fa, un Adriano Galliani, adesso non ricordo, mi sembra fosse contro il Real Madrid, o comunque, ed era il Real Madrid, non la Roma, con tutto il rispetto per la Roma, alla fine di un amichevole, in cui il Milan prese cinque gol, ribaltare lo spogliatoio, perché il Milan non poteva permettersi di fare certe figure, anche in amichevole, prendendo cinque gol. Ora, per questo Milan, prendere cinque gol, sta diventando la normalità, una cosa che può capitare, persino in amichevole contro la Roma. Quel Milan non se lo poteva permettere, a questo Milan, evidentemente, va bene così. Lasciate un mi piace a questo video, sperando che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, se ancora non siete iscritti, attivate la campanella, per ricevere le notifiche, e commentate perché voglio sapere la vostra. seguitici su pianetamina.it e su tutti i nostri profili, c'è il tastino grazie, per chiunque volesse sostenere il canale, ci farebbe molto piacere, e vi ringrazio pubblicamente in un video. Un saluto a parte di Stefano Bressi, appuntamento al prossimo video, e il concetto deve stare chiaro.